Dopo aver vinto le prime tre partite contro Jannik Hanfman, con Lorenzo Sonego nel derby italiano contro campione del 2016 Stan Wawrinka, Janik Sinner dovrà affrontare round di 16 degli US Open Alexander Zverev in quello che è già un classico moderno tra campione in carica di The Rogers Cup e finalista tedesco qui nel 2010. Sinner non ha battuto Zverev dal 2020 quando, nei loro primi precedenti, lo ha sorpreso a Roland Garros da lì tre successi consecutivi in Open Strip per The German Coloni US Open 2021 e un anno fa a Monte Carlo